o per l'eccesso di egoismo magari di Politano e Simeone per chiudere la partita due minuti prima? No, sicuramente dovevamo gestire meglio quella palla molto leggibile cacciata da una zona centrale da molto lontano, soprattutto non era nemmeno una palla tesa, sicuramente è la cosa che in questo momento mi fa arrabbiare di più, anche perché, come dici tu, prima abbiamo avuto due occasioni per chiudere la partita che non abbiamo sfruttato, però tra questo dobbiamo migliorare di più nella gestione della palla perché oggi abbiamo perso tanti palloni in uscita, è anche vero che si sforzano di fare quello che voglio io, oggi non c'erano le condizioni, ma chiaramente non è un alibi, c'era il campo non in perfette condizioni, c'era un vento che disturbava molto, specie al primo tempo, dove infatti abbiamo perso tantissimi palloni, credo il 75% delle palle perse sono state nel primo tempo. Poi la squadra nel secondo tempo ha fatto abbastanza bene, non di continuo ma a tratti. La nota positiva è l'ordine, è una squadra che ha ritrovato l'ordine e ripartiamo da questo, cerchiamo di limare gli errori e stop. Sono qua, ciao Francesco, a questo punto classifica alla mano il quarto posto è veramente un'utopia, c'è il rischio che il Napoli possa cadere in una sorta di ipnosi e pensare soltanto al Barcellona? Ma no, non perché è vero che è lontano, ma è anche vero che ci sono altre competizioni che sono meno lontano. Noi bisogna, finché la matematica non ci condanna, bisogna aspirare ad arrivare più lontano possibile. Il Barcellona è una partita importante, importantissima, vogliamo passare il turno perché sarebbe grandioso. Ora però c'è il Sassuolo, io ho detto ai ragazzi che bisogna pensare partita per partita perché la nostra posizione in questo momento ci obbliga a fare così. Hai la sensazione di una squadra bloccata psicologicamente? Sì, diciamo che penso che il problema sia principalmente questo, perché la squadra fisicamente sta abbastanza bene, l'ha dimostrato anche oggi che nel finale prendo un giocatore a casa, Anguissa, è venuto fuori molto bene, ma anche altri calciatori, non vedo calciatori che si buttano in terra con crampi e tutto il resto. Il problema è solamente mentale, che dobbiamo stare in partita, dobbiamo fare più movimento, abbiamo iniziato a essere più squadra, questo ne sono certo, però lo facciamo a tratti e questo mi fa pensare che il problema sia mentale. Buonasera, l'impressione che soprattutto nel primo tempo, netto di quelle considerazioni che faceva, è che il movimento, il giropalla, il movimento senza palla anche dei giocatori azzurri fosse un po' statico. È possibile, vado così, di intuizione, che ci possa essere anche una sorta di richiamo, fra virgolette, di preparazione? Cioè, state impostando una preparazione giustamente di un altro tipo, è corretto il fatto che abbia visto una squadra che era ferma, insomma i giocatori rispettavano il pallone quasi sui piedi, si muovevano poco, almeno questa è l'impressione, non so se di peso dal campo o d'altro. No, come dicevo prima, non è la condizione fisica il problema, è mentale assolutamente. Ti ripeto, c'è stato un condizionamento, sapevamo che il Cagliari è una squadra che tiene la palla alta, infatti è lì che dobbiamo migliorare, perché quando troviamo squadre che alzano la palla in continuazione e sporcano la partita, dobbiamo essere bravi ad adeguarci velocemente e poi a ricominciare a giocare a calcio, perché noi se accettiamo la partita sporca non siamo capaci a farlo. Noi dobbiamo accettarla solamente quando hanno la palla agli altri, ma non dobbiamo, non deve essere la nostra arma perché non abbiamo le qualità per tenere la palla alta. In questo periodo non puoi incidere fisicamente perché giochi ogni tre giorni, per cui da parte nostra non c'è stato nessun input, nessun grande input fisico, solamente cercare di tenere i giocatori nella condizione che hanno, che ripeto, secondo me a livello fisico stiamo abbastanza bene. Grazie e buona sera.